Il lancio di fine anno della CGL di Bari è proposta per far ripartire l'economia a piano strategico, Smart City, Urban Center, alcuni dei progetti per ripensare l'area metropolitana di Bari nel 2013. Ben ritrovati su CGL Bari TV, persi negli ultimi 4 anni 28 mila posti di lavoro in Puglia. Nella sola provincia di Bari sono calati di 5 punti percentuali, lavoratori tra i 25 e i 34 anni. L'occupazione maschile è scesa da 66 a 62%, quella femminile già bassa dal 33 al 31%. Questo il bilancio tracciato nella conferenza stampa di fine anno. La CGL di Bari però elabora un documento contenente una serie di proposte per far ripartire l'economia, a cominciare proprio dal rilancio dell'area metropolitana coinvolgendo istituzioni e politica. Sentiamo quali sono le proposte nell'intervista al segretario generale della CGL di Bari, Pino Gesmundo. In Puglia la provincia di Bari è quella che più ha risentito della crisi, questo è il dato emerso durante la conferenza stampa. Calano i tassi di occupazione maschile e femminile tra il 2008 e il 2011, passiamo dal 49,8% al 46,6%. Quindi si perdono 3 punti percentuali, che significato ha questo dato? Questo è un dato che ci ha preoccupato, in verità per quanto ci riguarda non è una novità perché noi leggiamo questi dati quotidianamente parlando con i lavoratori, stando tra la gente, nelle fabbriche. Le crisi aziendali che abbiamo vissuto e che abbiamo dovuto gestire in quest'ultimo anno sono crisi che di fatto hanno provocato il dato che appena leggevamo. Ci preoccupa perché poi interviene soprattutto sul mondo giovanile, colpisce fortemente le donne, colpisce le donne scolarizzate. E questo è un problema del quale dobbiamo preoccuparci, dobbiamo fare un'analisi seria rispetto a questo dato. La provincia di Bari perde occupati di tutte le età, ma soprattutto sotto i 35 anni. È evidente che bisogna intervenire con una legislazione nazionale che tuteli maggiormente le fasce giovanili, agevoli le assunzioni dei giovani all'interno delle attività produttive, ma c'è bisogno di una politica di sviluppo che consenta ai giovani di entrare nel circuito nel mondo del lavoro, perché il problema è vero anche questo. Peraltro quei dati che sono già drammatici di per sé pagano il fatto che comprendono anche all'interno di quei dati occupazione non stabile, non a tempo indeterminato. Molti dei rapporti di lavoro che consideriamo attività lavorativa a tutti gli effetti, di fatti, sono attività di lavoro precarie. C'è molta cassa integrazione e quindi è un dato che obbliga tutti quanti a riflettere, ma soprattutto obbliga tutti quanti a intervenire rispetto a un'inversione di tendenza sulle politiche nazionali che aiutino le politiche territoriali, perché anche investire nel welfare è un modo per creare occupazione, per creare buona occupazione, gli investimenti anche nel campo della metallurgia. Molte aziende hanno avuto anche sostegni per creare attrazione agli investimenti nel nostro territorio regionale. L'agricoltura deve essere sostenuta, alcune politiche sono politiche importanti, penso alle leggi sul caporalato, ma anche tanta altra legislazione messa in campo dalla regione Puglia ha consentito un'inversione di tendenza in Puglia, però non è sufficiente se non si modificano le politiche nazionali. Bisogna recuperare un ruolo strategico sul territorio, per questo il piano del lavoro propone una nuova politica industriale del Paese, ma soprattutto una nuova idea di sviluppo, creando appunto lavoro. Di che si tratta? Beh, intanto il nuovo piano del lavoro, rievoca il piano del lavoro messo in piedi da Di Vittorio, fu la proposta di Di Vittorio per uscire dalla crisi del dopoguerra. Dal dopoguerra usciva un Paese distrutto sotto tutti gli aspetti e la CGL ebbe l'intuizione, grazie a Di Vittorio, di lanciare questo piano del lavoro che partiva dal territorio, dalla valorizzazione del territorio, delle potenzialità che il territorio offrivano, provando però a costruire un progetto che fosse condiviso e condiviso anche dal basso. Questo è il piano del lavoro nazionale, noi stiamo ragionando sul territorio di Bari e la CGL nazionale di fatti sta lanciando il nuovo piano del lavoro, riprendendo in qualche modo quella filosofia e ragionando rispetto a un Paese che è vero che non esce da una guerra, ma che ha dati da dopoguerra, insomma, se i dati della desoccupazione sono quelli, l'economia che non cresce, la stagnazione, insomma, sono dati che in qualche modo impongono una riflessione e soprattutto una progettualità. Sarà il leader della CGL, Susanna Camusso, a dar vita al nuovo progetto di sviluppo dell'area metropolitana di Bari, firmato Camera del Lavoro Provinciale. Come Camera del Lavoro di Bari abbiamo costruito la nostra piattaforma, che abbiamo chiamato Piattaforma per lo Sviluppo dell'area metropolitana barese. È una piattaforma che sarà presentata da Susanna Camusso in un'iniziativa pubblica dove vorremmo proporla alle istituzioni, alle forze politiche, alle organizzazioni sociali ed imprenditoriali, provando a costruire una sinergia rispetto a un progetto di sviluppo del territorio barese. Bari città metropolitana, una frase che racchiude un grande progetto che la CGL di Bari ha intenzione di mettere concretamente in piedi. Bari è una grande città del Meridione, una grande città di questo Paese, insomma. È un'area metropolitana importante, ha delle potenzialità importanti che vanno sfruttate. Per questo noi abbiamo pensato di partire esattamente da quello che abbiamo, dalle potenzialità del territorio. Bari rappresenta un grande polo per la formazione, pensiamo all'università. La Fiera del Levante può essere uno strumento, un polano, per non solo integrarsi con la città ma anche per proporre innovazioni e ricerca, quindi con fiere specializzate. Ragionare rispetto alle infrastrutture, quindi rispetto al porto, importantissimo, all'aeroporto di Bari che può giocare un grande ruolo rispetto allo sviluppo, rispetto all'innovazione ma anche rispetto all'attrazione degli investimenti. Il nodo ferroviario ma anche il nodo autostradale. Insomma, Bari ha tutti i numeri per poter essere una città importante, per poter competere con le altre città e provare a costruire intorno a questo uno sviluppo. Un'opportunità ci viene da Smart City. Smart City che è un progetto sul quale si stia lavorando da tempo. Noi siamo lì in campo con il partenato sociale del CNEL a discutere di alcuni progetti. Io penso che costruire città intelligenti sia una cosa che può produrre non solo una condizione di vivibilità migliore per i cittadini ma anche produrre lavoro e quindi produrre occupazione. Su questi progetti ci stiamo cimentando. Pensiamo che l'agricoltura sia uno strumento importante. bisogna valorizzarlo. Il territorio barese ha una vocazione agricola importante soprattutto nelle periferie dell'area metropolitana e su quello bisogna fare dei progetti di investimento, provare a costruire anche prodotti di qualità, chiudere la filiera, accorciare la filiera tra la produzione e la commercializzazione. Penso che il turismo può essere una carta importante. Molto ha fatto la Regione Puglia in questo senso investendo importanti risorse. Però pensiamo a quello che può diventare non solo il circuito gastronomico nel nostro territorio, pensiamo a quanto sono importanti i borghi dell'area metropolitana, messi in rete, in un progetto turistico di rete, penso che possano produrre non solo attrazione di turisti ma anche investimenti, ma anche a questo punto occupazione e lavoro, ma anche nel campo dell'industria, del metalmeccanico. Io penso che è un ragionamento con Regione Puglia rispetto agli investimenti mirati per le aziende che fanno innovazione di ricerca e che possono produrre occupazione buona è un ragionamento che va fatto e su questo stiamo lavorando. Insomma, abbiamo una serie di idee, una serie di progetti che vogliamo proporre e dei quali vogliamo discutere. Nel progetto che la CGL di Bari propone per il nuovo anno c'è anche l'Urban Center. In che cosa consiste questa progettualità? Che comunque la CGL ci sta lavorando già da tempo, perché si tratta di un luogo fisico che realmente esisterà. Certo, è un luogo fisico, non è un'invenzione della CGL, è uno strumento che funziona, che ha funzionato in altre aree metropolitane del Paese, importanti del Paese, ha prodotto i risultati. È un luogo fisico all'interno del quale poter discutere dei progetti di sviluppo di una città e condividerla con le istituzioni, con i cittadini, con le parti sociali. Insomma, un luogo all'interno del quale poter costruire progetti condivisi che possono avere il valore aggiunto del fatto che tutti quanti lavorino perché si raggiungono i risultati. Abbiamo ragionato col Comune di Bari, che ha dato la disponibilità alla Costituzione dell'Urban Center. L'Università di Bari ha fatto una proposta nello stesso senso, quindi a breve, io penso, dovremmo concretizzare la realizzazione di questo importante strumento di concertazione, penso dopo la presentazione della nostra proposta. Ci sono proposte importanti sulle quali bisogna necessariamente confrontarsi. Non si può discutere del settore delle costruzioni, dove noi pure abbiamo delle idee, senza coinvolgere le associazioni imprenditoriali del settore, senza coinvolgere le associazioni degli inquilini piuttosto che le associazioni, che ne so, imprenditoriali che comunque avranno un riferimento rispetto a una politica di quel tipo. Nel settore metalmeccanico vale la stessa cosa, ma per uno sviluppo urbanistico della città e dell'area metropolitana, senza un coinvolgimento vero della gente, dei cittadini, delle rappresentanze sociali, io penso che non si andrebbe, non si farebbe molta strada. Con uno sguardo al passato e una prospettiva per il futuro e con questi presupposti che nascerà la fondazione. Sì, abbiamo pensato alla costituzione di una fondazione che possa essere uno strumento attraverso il quale poter tramandare, rilanciare la storia importante della CGL di Bari. Noi nell'ultimo anno, in questo anno insomma, abbiamo rievocato una serie di eventi importanti che hanno interessato la CGL, hanno interessato i cittadini baresi, eventi importanti, penso alla battaglia degli Edili, penso alla difesa della Camera del Lavoro di Bari, dalle squadrazie fasciste, dove Di Vittorio direttamente fu protagonista di quella vicenda, ricordata dal Presidente della Repubblica. Insomma, una storia importante quella baresa rispetto alla CGL, una storia non solo di sindacato di lavoro, ma una storia di difesa della democrazia di un Paese. Io penso che questa storia noi abbiamo bisogno di rievocarla, di studiarla e di consegnarla alle future generazioni, intanto impadronircene, ma anche consegnarla alle future generazioni. Quindi penso che la Fondazione abbia intanto questa finalità, quindi costruiamo questa Fondazione, ci sarà un comitato scientifico formato da studiosi che approfondiranno questi temi. Insieme al Comitato Scientifico di Natura Storico, è ovvio che abbiamo bisogno anche di analizzare il dato di contesto attuale, quindi la Fondazione si occuperà anche di studi, di ricerca del territorio baresi rispetto ai temi dello sviluppo e del lavoro e su questo abbiamo anche importanti collaborazioni che già l'Università di Bari ci ha dato, importanti sociologi, insomma. Abbiamo una prospettiva rispetto al lavoro da fare importante, bisogna studiare, analizzare, ma anche tenere fermi i piedi nelle radici del passato. Questa è la fondazione, anche questa la inaugureremo il 15 febbraio alla presenza di Susanna Camusso. La Cigela di Bari ha una storia importante, va ricordata, ma va anche rilanciata, ecco perché è il centro studio e quindi è un lavoro che vorremmo fare anche di approfondimento in questo senso. Cosa augura alle lavoratrici e ai lavoratori, ai cittadini tutti per questo nuovo anno? Beh, io spero che il prossimo anno sia migliore, ma lo dico sapendo che le cose purtroppo non saranno così, purtroppo. Lavoreremo perché le cose cambino e spero che ci sia più lavoro, spero che ci sia la possibilità per tutti di potersi sentire cittadini a pieno titolo, perché quando non si lavora, quando non si è un reddito, anche le persone non si sentono cittadini a pieno titolo. Penso, ecco e spero di poter dare risposta ai molti che vengono alle nostre Camere del Lavoro, perché al di là dei numeri, delle statistiche, dei trend, delle percentuali, poi noi viviamo la condizione delle persone che fisicamente arrivano ai nostri luoghi di lavoro e ci chiedono come arrivare alla fine del mese, come qualcun disabile con solo qualche ora di assistenza possa in qualche modo pensare che la propria vita sia una inizia dignitosa, come un giovane che ha studiato e si è laureato, magari pure a pieni voti, utilizzando le risorse poche economiche della famiglia possa trovare un lavoro. Io penso che noi dobbiamo provare a ragionare a come si devono dare risposte a tutti questi bisogni, ma anche penso ai pensionati che fanno veramente fatica ad arrivare alla fine del mese, ma anche a potersi curare, visto che le pensioni sono state tartassate da queste ultime riforme. Io auguro a tutti di stare un po' meglio, proviamo a stare tutti un po' meglio ma dobbiamo stare tutti quanti in campo per provare a invertire le cose perché da sole non si modificano. Bene, termina qui questa puntata speciale del nostro settimanale di approfondimento, continuate a seguirci sul canale CGL Bari Web TV ma anche sul nostro sito internet www.cgelebari.it Andiamo in onda anche su Delta TV, canale 78 del digitale terrestre di Puglia e Basilicata tutte le mattine intorno alle 7.40 circa, in replica alle 23.40. Buon proseguimento, arrivederci. Grazie a tutti.